Solo a Salerno Città 120 i casi accertati il lunedì 110, quelli del giorno successivo, circa 2000 nella provincia. Ma, dicono dall'USCA, il numero dei nuovi positivi è sottostimato, siamo probabilmente intorno al 50% di quelli reali. Senso di responsabilità viene chiesto a chi teme di aver contratto il Covid. L'autisolamento resta la misura più efficace per evitare la diffusione del virus. Ed a media delle persone che si ammalano è di 63 anni, ma per fortuna pochi hanno conseguenze gravi. I casi classificati come rossi ed arancioni, quelli più gravi seguiti dall'USCA di Salerno, sono ad oggi 25. Sono pazienti in prevalenza over 60 e soggetti fragili che vengono monitorati quotidianamente e a cui vengono somministrate terapie antivirali per arginare gli effetti della nuova variante, che seppur in apparenza meno grave, negli effetti sembra essere molto più aggressiva. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, si accusano solo sintomi lievi con uno o due giorni di febbre, mal di gola, qualche acciacco. Si chiede attenzione da parte dei medici anche perché il picco di questa nuova ondata di Covid è previsto per la metà del mese di luglio e fa temere, fra l'altro, che con l'arrivo dell'autunno si ripresenti con numeri anche più importanti. Del resto, basta guardare i dati dell'incidenza in Campania. In soli due giorni, 20 e 21 giugno, si è arrivati a 133,65 casi ogni 100.000 abitanti. Se si continuerà così, si andrà a fine settimana a superare abbondantemente quota 400. Altro fronte che preoccupa è quello dei ricoveri ospedalieri, dove c'è il rischio che torni il contagio fra le corsie. Negli ultimi giorni sono stati, solo a Ruggi di Salerno, 75 pazienti che sono arrivati al pronto soccorso con sintomi ascrivibili al contagio da Covid, rendendo ancora più caotica la situazione dell'emergenza.